buongiorno da casa tutto net oggi vi faremo vedere come preparare la ghirlanda pasquale un dolce semplice genuino che piace tanto ai bambini e da mettere anche in tavola come centro tavola di pasqua prima di tutto che cosa occorre nella pasta frolla già impastata la cui ricetta trovate anche su casa tutto net delle uova possibilmente fresche di palline colorate dai colori vivaci di zucchero poi granella di zucchero e un cioccolato fondente grattugiato in parte finemente in parte a pezzetti vediamo ovviamente una teglia imburrata e infarinata come procedere la pasta frolla in due parti poi incorporiamo cioccolato e lo lavoriamo dopo aver incorporato il cioccolato alla pasta frolla provvederemo a fare dei tondini lavoriamo velocemente con le mani prima di che il burro si sciolga meglio il tavolo ecco in questo modo non troppo spessi e né troppo sottili e facciamo un primo giro nel ruoto ci manca poco aggiungeremo dopo aver amalgamato il cioccolato alla pasta frolla la dividiamo in tanti cilindri e li stendiamo con le mani prendiamo tre dobbiamo fare una treccia dopo aver steso i cilindri provvediamo a fare una treccia come si fa normalmente con i capelli con la treccia la metteremo in una teglia imburrata e infarinata mettiamo delle uova fresche più o meno a una certa distanza poi copriamo con un rotolino di pasta frolla sempre al cioccolato molto meno spesso e più sottile le uova aggiungiamo qui e là dei pezzetti di cioccolato un po' di granella di nocciole no scusatemi granella di zucchero e poi inforniamo il forno preriscaldato quindi a quando non si sarà formata una crosticina dorata la pisciglanda pasquale è cotta in alcuni punti è un po' bruciacchiato ma non si riposta anche la spolverizziamo con zucchero a velo al meglio una parte più bruscchiata la eliminate dopodiché la decoriamo con ovetti di cioccolato colorati e la possiamo mettere al centro tavola di Pasqua ecco la ghirlanda di Pasqua buona Pasqua a tutti da Cassa Tuttonetta alla prossima ricetta grazie